Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz ed ovviamente da parte di News IT Forum, il portale legato alla più importante manifestazione sul trading e sugli investimenti. Ma veniamo subito a qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo abitualmente. Partiamo da una commodity, voglio farvi vedere quello che è il prezzo del petrolio che da settembre si è mosso in maniera molto consistente verso l'alto, toccando quasi 56 dollari al barile. Questo è un dato secondo me importante perché sposterà a rialzo quelle che sono le valutazioni sull'inflazione, sulla perdita di valore della moneta, magari favorendo anche quelle politiche da parte delle banche centrali volte a una normalizzazione della situazione in atto. Come sapete è da diversi anni che le banche centrali stampano moneta, tutte dagli Stati Uniti all'Europa, in particolare nell'ultimo periodo, e questo sicuramente servirà per normalizzare in parte la situazione. Ovviamente con le politiche monetarie che sono destinate a cambiare, non da subito ma comunque già dal 2018, questo potrebbe avere un impatto sugli indici americani, e non soltanto anche su quelli europei. Quindi adesso andremo nel dettaglio a vedere gli indici, però secondo me questo è un dato importante, cioè il massimo raggiunto dal petrolio che non si vedeva da diverso tempo, secondo me è un'indicazione che dobbiamo assolutamente tenere sotto osservazione. Partiamo dal DAX. Il DAX ha avuto un movimento molto molto forte, e come vedete c'è stata una spinta rialzista soprattutto nella settimana scorsa che ha portato i prezzi oltre i livelli di 13.400 punti. L'avevamo detto che l'idea di una continuazione del trend rialzista in atto poteva essere perseguita. A mio avviso dopo un movimento così significativo di solito c'è quella che viene chiamata tra gli operatori la presa di beneficio o il normale ritracciamento legato proprio al trend rialzista. Questo non vuol dire che sia il caso di posizionarsi al ribasso, ma probabilmente potrebbe essere il caso di liquidare eventuali posizioni rialziste e attendere un ritracciamento, un ritracciamento che potrebbe arrivare appena sopra il livello dei 13.000 punti. magari non questa settimana, ma comunque diciamo in generale c'è da attendersi un ritorno, un test su questi livelli per poi proseguire con i rialzi, insomma se appunto il quadro non dovesse mutare nelle prossime settimane. Vediamo quanto è successo invece con riferimento all'indice americano, una crescita un po' più contenuta soprattutto nell'ultima settimana, questo però appunto come sappiamo l'indice americano rimane, continua a battere sui massimi ed ovviamente anche su questo indice bisogna avere cautela. Probabilmente la volatilità sul DAX sarà maggiore rispetto a quella sull'indice americano e quindi per chi vuole se invece propendere per delle operatività di tipo ribassista, forse un'operatività a ribasso sul DAX sarebbe preferibile rispetto a un'operatività a ribasso sull'SP500 dove non immagino particolari scossoni. Il livello importante insomma sono i livelli sotto 2560 che potrebbero aprire a degli accelerazioni verso il basso, però per il momento è uno degli indici più stabili. Andiamo a vedere cosa succede invece su degli indici un po' più sempre legati al mercato europeo, abbiamo l'indice francese che finalmente dopo tanto tempo supera i massimi che erano stati registrati a maggio portandosi più avanti. Ecco, l'indice francese secondo me è particolarmente attrattivo perché ci sono delle aziende che a mio avviso risultano essere sottovalutate rispetto magari ad alcune aziende che fanno una medesima attività per esempio in Italia e quindi è un indice che io seguo con particolare attenzione. Ho seguito Total nelle ultime settimane, ho seguito EDF per quanto riguarda l'energia in contraposizione con le nostre Eni e Enel che ovviamente sono legate all'energia elettrica per quanto riguarda il mercato di produzione del petrolio. Andiamo avanti e vediamo invece cosa succede in Spagna, Spagna è una situazione decisamente più intricata, avevamo detto la settimana scorsa che poteva essere interessante valutare delle operazioni a ribasso, sostanzialmente c'è debolezza, debolezza legata a tutte le questioni che sappiamo legate a Catalogna e all'indipendenza, le questioni politiche legate alla Spagna, insomma in questo caso la cautela è d'obbligo ma ritengo che i minimi che abbiamo visto in quest'area, in area 10.150, sostanzialmente potranno essere violati questa settimana, insomma questo potrebbe dare ulteriori lanci ribassisti. Andiamo da ultimo, vi voglio segnalare, vi ho parlato appunto degli spread tra Eni, Enel, EDF e Total, vi segnalo per il prossimo 23 novembre a Milano, io insieme a Luca Di Scacciati terremo un seminario alle ore 15.30, 16.30 in sala Toscanini all'interno di IT Forum Milano che sarà appunto guadagnare in borsa come gli hedge funds, sostanzialmente faremo vedere questo tipo di operatività long e short che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, insomma comunque in generale, negli anni ci ha dato grandi soddisfazioni. Io con questo vi saluto da parte di Enrico Lanati, investire.biz per questa settimana è tutto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.